Oggi è un giorno speciale, è uno di quei giorni che ti fanno sentire viva! Oggi è il giorno del ciclo! Posso salettare! Posso giocare nascondino! Posso ballare! Posso fare stretching! Con i miei nuovi assorbenti posso anche indossare i zin bianchi! Ma la pancura va! Quanto me l'ho messo? No, ma io che ti spazio di un'ora durante il ciclo mi ho rimanato il ciclo, mi sono stata calmissima, no, non ho mai voluto il ciclo! Oggi è, ma che cosa c'è? Che cosa volete? Oh, mi matta che sono al telefono dovete ropermi le scatole! Ma poi scusa, chi è che ha detto che quando il ciclo ho sempre fame? Ma io non ho col fame! Neanche un po'! E sono tutte le bucci! Basta! Basta! No, non ho niente! Basta! 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 Il ariari ho freddo! ma nel video c'era scritto copertantile ma le batterie dove si mettono ah no le batterie ma non si mai no i 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